Stamattina, no, sono andato su che dovevo fare, dovevo fare, stamattina, sono andato su, su, che dovevo fare, stamattina, poi, di poi, poi, stamattina sono andato su, ecco, e avevo la macchina, la fotografica, e avevo la macchina, ecco, la fotografica, ed ero la proprio per scattare, la così, e avevo la, la, e poi, e poi, e poi, ma adesso come stai? Sono in piena forma, ma meglio. E insomma, allora, non si può presentare così a Erika, bisogna fare qualcosa di urgente, perché, e tu, Erika, perché? Qualcosa li trovo io, te ne intendi di tende? Ma temora te, però... Gli facciamo montare una tenda. Eh, dai, dai, aspetta, sono tantissimi. Bruno! Allora...